Se non hai tempo, ci pensiamo noi! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non si sposta. Stop grata. Però ne fa di luce. Stefano, la luce è irregolare. Che sa che lampadine usa? Cioè Stefano, praticamente, no, non può essere un aereo, perché la telecamera praticamente lo vede come un puntino luminoso e poi tutta una volta la luce diventa più potente, diventa più potente, più gigantesco, e non sto toccando né zoom né niente Stefano. Che cazzo sta succedendo? Ma è sempre della stessa grandezza. Sì, sì. Perché qui è gigantesco, eh? Ah no, è più grande, sta andando a una velocità stratosferica. Stefano, Stefano ci siamo! No, questo è un UFO. Ah che? Già sta correndo poco. Oh Gesù! Oh Gesù! Stefano, che bello! No! Stefano, non è possibile! Non ci credo! Ma questo non è via, è assolutamente un aereo. Non ci credo, non ci credo. Oh Gesù! Èissimo! Non ci c'un caentes ma nenś кошOOX tienes! Oh Gesù! Oh Gesù! Che è stato un ca state insegnario? Eccoua! Non ci credo! È assolutamente un aereo. Uno! Eccoora! Grazie a tutti.